Sono state presentate il 24 settembre le autobiografie di Maria Pia di Savoia e Michel de Bourbon Parm La mia vita, i miei ricordi e un principe nella tormenta. I racconti, arricchiti da splendide immagini fotografiche, spaziano tra aneddoti e curiosità, momenti ufficiali e intimità. I principi si descrivono come persone comuni e semplici, che pur avendo avuto il privilegio di nascere in una famiglia reale, non hanno mai dimenticato di essere due persone, con le fragilità e le passioni di ogni essere umano.